Grazie a tutti Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un video in cui vi mostro che il glitch di duplicare la BMX nella base operativa è ancora funzionante qualcuno sicuramente si chiederà a che cosa serve duplicare la BMX in base operativa duplicare la BMX in base operativa ragazzi ci aiuta a fare il glitch dei soldi da fare da sui anche questo glitch che io sto facendo adesso lo potete fare da sui l'unica cosa che dovete avere è una BMX già nella base operativa messa con un altro glitch non andate davanti alla base operativa e pretendete che a BMX entrate in tra base se no sto glitch non serviva un cazzo e quindi dovete avere una BMX nella base operativa una LGRH8 a costo zero in un altro garage da chiamare io qui ho chiamato la Sultan perché non avevo LGRH8 e non mannavate comprarle quindi ho chiamato la Sultan questa ragazzi è la data e l'ora in cui sto facendo il glitch vi dico che il glitch dei soldi da fare da soli con la BMX funziona perché altrimenti non avrei portato questo se non avrebbe avuto senso quindi procediamo con il glitch una volta che avete chiamato la vostra LGRH8 l'avete messa fuori dalla base operativa ripeto io ho la Sultan ma voi mettetece una LGRH8 una volta che l'avete chiamata e messa fuori dalla base operativa l'unico passo che dovete fare è prendere la vostra BMX che avete all'interno della base operativa e andare al pannello di uscita ragazzi dove c'è il tastierino di uscita io qui ho preso il muretto paro paro e una volta fatto ciò adesso lo vediamo passo passo ragazzi quindi prendete e andate a incastrare la bicicletta nel tastierino dietro al tastierino di uscita cioè qui ragazzi provateci varie volte oppure fate piano piano come faccio io premete appena appena X da mezza pedalata e provate a vedere se ha il teletrasporto ragazzi ormai a me riesce proprio alla prima vedete quando fa questo gioco date mezza pedalata e premete triangolo se per valo teletrasporto è tutto ok ragazzi quindi a questo punto avete il messaggio in alto la bici incastrata lì e premete triangolo X insieme come avete visto fa un piccolo lag che ci vede sulla bicicletta e poi usciamo con la bicicletta quindi a questo punto andate a mettere la bici in garage perché non ve la lascerà entrare nella base operativa la dovete mettere prima in un garage e poi di portare nella base operativa ragazzi vi ricordo il contest intanto che vado pedalando vi ricordo il contest dei 10k trovate il video in descrizione vi lascerò il video in descrizione è un contest in cui vi regalerò un bello accountino insomma bello cazzuto con 800 milioni dentro 50 milioni in contanti più o meno no più o meno senza più o meno 750 milioni di roba e tutto comprato c'ha tutto ragazzi sia con il primo che con il secondo personaggio centro operativo coma vengare carro armato tutto quello che si può comprare ce l'ha c'ha l'hangar pieno di aerei più costosi quindi comunque so bei sordi ragazzi quando arriverò a 10 mila iscritti estrarrò questo account farò registrazione di tutti quelli che hanno commentato sotto al video che vi lascerò in descrizione quindi ricordate il contest road to 10k ragazzi aiutatemi ad arrivare a 10 mila iscritti e quando saremo a 10 mila iscritti estrarrò un fortunato vincitore che si accaparrerà quell'account ragazzi per ora ne darò solo uno se vi comportate bene magari può essere pure che farò qualcosa di più però voglio vedere la vostra partecipazione sul canale ragazzi dovete essere presente quindi la bicicletta ragazzi la entriamo nel garage come avete appena visto e rimarrà sulla piazza auto dopodiché la andremo a spostare nella base operativa detto questo un saluto al prossimo video ciao ciao ciao